È probabile che navigando in rete ti siano apparse sullo schermo notifiche pop-up come questa, 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 questa o magari addirittura questa, le quali tutte hanno il compito di informarti che il sito web che stai visitando utilizza i cookie e per quanto possano essere indubbiamente fastidiose, la loro esistenza va tutta a nostro favore. Ma in che senso questo? Che cosa sono i cookie? A cosa servono e in quali casi possono rivelarsi pericolosi? Ne parliamo nei prossimi minuti qui su IT Support e rimanete con me fino alla fine perché, allerta, spoiler, in coda al video vi svelerò anche un trucchetto che ridurrà queste fastidiose finestre pop-up solamente ad un lontano ricordo. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. Ed altrettanto ricordatevi anche, ovviamente, di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni, ogni giovedì ore 12.30. Quando navighiamo online, specialmente su piattaforme di e-commerce, forum e social network, ci viene sovente richiesto di inserire uno o più dei nostri dati personali, voi ad esempio il nome utente, password o anche soltanto un PIN, oppure ancora di esprimere una qualche preferenza circa l'estetica del sito che appunto stiamo visitando. Ed ecco che qui entrano in gioco i cookie. Ufficialmente chiamati HTTP cookies, che cosa fanno questi dolcetti ipocalorici digitali? Memorizzano i nostri dati così da evitarci l'onere di dover reinserire ogni volta da capo le nostre informazioni e le nostre preferenze. Dal punto di vista della comodità, quindi, assolutamente nulla da dire. L'attività dei cookie migliora sensibilmente la nostra esperienza di navigazione rendendola più agevole. Ovvero, esattamente il presupposto col quale vennero partoriti nel lontano 1994, l'anno più migliorissimo della storia, dalla mente del programmatore statunitense Lu Montulli, proprietario di un sito di e-commerce. Il vecchio Lu si era infatti accorto che memorizzare i dati di tutti i suoi clienti richiedeva un'enorme quantità di spazi di archiviazione, per cui quale miglior soluzione se non quella di conservare questi dati direttamente nel computer degli utenti medesimi? Esatto, avete capito bene, questi cookie sono conservati all'interno dei nostri computer, ma tranquilli, comunicano i nostri dati personali solo e soltanto con il loro sito di pertinenza ed ovviamente non a caso, ma secondo un protocollo, un metodo specifico e definito. Ovvero, nel momento in cui accedo ad una pagina web, per esempio un e-commerce, questo mi chiede se voglio accettare o meno i cookie e se acconsento premendo su accetta, un cookie, ovvero in realtà un file, verrà scaricato nel mio computer con il compito di legarsi alla mia attività di navigazione memorizzando i miei click, i miei dati e le preferenze riguardo ad esempio i prodotti che visualizzo o acquisto con più frequenza. Questo che cosa comporta? Che la prossima volta che andrò ad accedere a quel sito troverò il mio utente già collegato, le mie preferenze di lingua, colore o altro già impostate e perché no, anche gli articoli che volta scorsa avevo messo nel carrello lì pronti per essere acquistati. Ciò è possibile grazie all'operato di quel famoso cookie che raccoglie i dati di navigazione e li conserva nel mio computer in attesa che io ritorni a connettermi a quel preciso sito web al quale andrà poi a comunicare tutto ciò che ha memorizzato sul mio conto. In pratica, grazie alle informazioni collezionate dai cookie, il sito è in grado di ricordarsi di me e permettermi di saltare tutti quei passaggi iniziali diciamo più inutili permettendomi di velocizzare e migliorare la mia esperienza di navigazione e soprattutto, va detto, nel pieno rispetto della privacy. Fin qui tutto bene, anzi direi benissimo, ma questo fin tanto che quei dati restano esclusivamente a disposizione di quel sito e basta. Questi di cui vi ho appena parlato sono definiti cookie di prima parte e quelli cioè installati direttamente dal sito in questione che stiamo visitando per se stesso e per il suo corretto funzionamento e che non vengono in alcun modo condivisi con terze parti. Questo perché invece esistono anche i cookie di terze parti i quali vengono apertamente condivisi con altri siti ed altre piattaforme solitamente per fini pubblicitari. Ma vi faccio un esempio concreto. Vi è mai capitato di cercare online informazioni circa un X prodotto per poi capitare seguentemente su Facebook, TikTok o Instagram e trovarvi tempestati letteralmente di N reclami inerenti prodotti molto, molto simili a quello che avete appena cercato su Google? Ciò è dovuto all'operato dei cookie di terze parti dei quali dopo aver memorizzato i vostri dati li condividono apertamente come dicevamo con altri N siti web nell'esempio di cui sopra social network permettendo loro di personalizzare gli annunci e generare così spot mirati che magari, perché no, vi porteranno a comprare qualcosa. Operato discutibile senza alcun dubbio ma del quale in un certo senso potremo anche non curarci troppo fin tanto che le informazioni in essi contenuti vengono condivise con siti che consideriamo affidabili, attendibili. Ma quand'è che questi cookie diventano veramente potenzialmente pericolosi per noi? Quando ovviamente vanno a finire nelle mani sbagliate. Un malintenzionato infatti è anche solo mediamente capace e potrebbe riuscire ad intercettare uno di essi ed accedere alle informazioni in esse contenute e sfruttarle per fare qualche porcata. Ciò accade sovente quando accettiamo cookie da siti discutibili e non accreditati come ad esempio quelli di torrent, streaming illegale, IPTV oppure crack di vario genere i quali potrebbero condividere le informazioni da essi stessi collezionate con gente diciamo discutibile, ecco. Il fatto, gente, è che senza girarci troppo intorno dovremo sempre controllare attentamente a quali siti stiamo concedendo l'autorizzazione e per quali scopi. E qui attenzione però perché come abbiamo già fatto presente in diversi altri video la tecnologia fine a se stessa non è né buona né cattiva dipende tutto dall'uso che se ne fa. E anche per i cookie la cosa non fa assolutamente eccezione e dove da un lato sono necessari per tutelare il nostro diritto alla privacy dall'altro possono riuscire a lederlo davvero in meno di mezzo secondo. Ed è poi a tal proposito che nel 2016 l'Unione Europea ha formulato il GDPR ovvero il General Data Protection Regulation il quale obbliga testualmente tutti quanti siti web che visitiamo a domandarci esplicitamente se vogliamo oppure no accettare i loro cookie. Questa è la ragione dietro quelle notifiche pop-up che riceviamo e che come dicevo sarebbe meglio che leggessimo un po' più attentamente. Eppure sta il fatto che la maggior parte della gente quando vede apparire una di queste notifiche e clicca su accetta senza nemmeno porsi il problema. Per cui come fare? È possibile eliminare questi cookie una volta accettati? La risposta è sì ma per snocciolare correttamente questo argomento serve fare una distinzione tra le diverse tipologie di cookie le quali differiscono essenzialmente per la loro durata ovvero per quanto tempo restano all'interno del nostro computer. Ne esistono di ben tre tipologie la prima è quella dei cosiddetti cookie di sessione ovvero quelli che si auto eliminano una volta che abbandoniamo il sito in questione. Tra di essi però fanno parte anche i cookie cosiddetti essenziali ovvero quelli che dobbiamo accettare per forza di cose in quanto funzionali al sito. E tra di essi possiamo ad esempio citare quelli che ci permettono di mantenere le preferenze di lingua, colore, aspetto, impostazioni e soprattutto gli articoli nel carrello anche nel caso in cui aggiorniamo la pagina. In sostanza quindi potremmo dire che i cookie di sessione sono quelli necessari al corretto funzionamento di tutti i siti web. La seconda tipologia è quella dei cosiddetti cookie persistenti ovvero quelli che permangono nel nostro computer fin quando non li andiamo a cancellare noi altri manualmente. Per farlo è sufficiente accedere alle impostazioni del browser che utilizzate, trovare il gruppo cache e selezionare oltre alla cronologia, dati e quant'altro anche i cookie per l'eliminazione. E qui però occhio a non selezionare anche la voce password perché altrimenti tutte quelle che avete salvato nel browser di base e cosa non proprio fantastica verrebbero cancellate senza sé e senza mano. Infine la terza categoria è quella dei cosiddetti evil cookie o cookie zombie o ancora super cookie praticamente dei biscotti grandi così i quali esattamente come degli agenti patogeni stinfami prodotti da forno cosa fanno? Vanno a replicarsi, copiano se stessi all'interno del nostro computer all'interno di più cartelle rendendo di fatto estremamente più difficile la loro eliminazione. I cookie facenti parte di quest'ultima categoria specifichiamolo diversamente dalle prime due vengono sviluppati intenzialmente intenzialmente per scopi diciamo abbastanza discutibili e spesso illegali pertanto se volessimo casomai tutelarci al 100% potremmo decidere di non accettare mai in nessun caso alcun tipo di cookie. E spiace deludervi gente ma in questo caso la risposta è un no non tanto perché ciò non sia effettivamente possibile quanto più perché una buonissima percentuale di siti web per poter essere visitata richiede che l'utente accetti quantomeno i cookie tecnici ovvero quelli necessari per cui dal momento che esiste questo impedimento come fare per trarre vantaggio dall'utilizzo dei cookie senza però incorrere nelle problematiche di qui sopra? tre opzioni la prima quella che seguo anch'io spendere 5 secondi letteralmente 5 secondi per leggere questa benedetta notifica pop-up e cliccare allora su rifiuta tutti oppure consenti solo necessari personalmente la scelta migliore in assoluto opzione 2 la più decisamente acuna matata appoggiatevi ad un servizio vpn uno fra tutti oramai direi celeberrimo nord vpn e no questo non è un video sponsorizzato la cui funzione di thread protection thread protection permette di scansionare e monte il sito a cui vi state per collegare ed eliminare automaticamente i cookie potenzialmente pericolosi per il nostro sistema operativo caso mai ce ne fossero si intende e infine terza ed ultima opzione per gli utenti più pigri appoggiarsi ad I Still Don't Care About Cookies un'estensione web disponibile per i maggiori browser in circolazione che permette di rimuovere gli avvisi sui cookie da quasi tutti i siti permettendovi di risparmiare quei tre secondi necessari alla loro lettura e qui però attenzione perché non è che questa estensione va ad eliminare il concetto di cookie perché sennò saremo stati tutti quanti a posto infatti essa va semplicemente a nascondere o bloccare la notifica medesima accettando di default quando possibile l'opzione meno invasiva per l'utente anche se va detto che alle volte potrebbe persino accettare i cookie al completo per cui vedete voi e piccola parentesi minuscola parentesi in realtà prima di chiudere casomai decideste di installare questa estensione e vi metteste alla ricerca di essa online di certo vi imbatterete in un'altra denominata I don't care about cookies identica a quella di cui vi ho parlato io ma di proprietà della Avast software e quindi in un'ottica di tutela della privacy io personalmente parteggio decisamente di più per un progetto open source e questo è tutto gente io come sempre vi ringrazio per avermi seguito in questi ultimi minuti ed altrettanto spero di avervi coinvolti ed interessati almeno un pochino ma ditemi cosa ne pensate del GDPR e del concetto di privacy online siamo tutelati oppure no? ma soprattutto confessate finora non avete mai letto alcuna di queste notifiche pop up limitandovi ad accettarle a rulla come se niente fosse oppure no fatemelo sapere qui sotto nei commenti sono sempre curioso di sapere la vostra opinione e mi raccomando se il video vi è piaciuto ricordatevi di spalliciarlo prima di andare via io sono Doc questo è T-Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12.30 con un nuovo episodio non cambiate canale grazie a tutti